eccoci qui appena finita la vittoria finalmente sicuramente una vittoria dopo non so quanto tempo assolutamente tra gubbia e roma non si riesce a vincere mai quindi mamma mia anche se diciamola tutta oggi diciamo che il rigore è parecchio parecchio generoso anche perché ma questa porta capito perché sapevi tanto stava di rigore abbastanza generoso e soprattutto perché c'aveva le mani attaccate al corpo quindi non so doveva metterle le mani però ce l'ha andato alla fine diciamo che prestazione insomma bella vittoria però però prestazione soprattutto i primi 25 minuti davvero pessimi onestamente tra l'altro oggi evento speciale da cantare la famosa canzone alleluia che ha segnato immobile non so come però vi ho già giocato bene 6 e mezzo 7 pellegrini onestamente da romanista oggi ha fatto scelte tutte scelte oscene onestamente quindi pessimo a mio avviso quando c'è l'adello c'è l'adello a cerbi in partita monumentale a me è sempre piaciuto ottimo difensore a mio avviso grande bella prestazione muro però senza anche sul rigore secondo me ha fatto una grandissima stronzata primo tempo da 10 secondo tempo da 5 quindi fammo una media diciamo 5 e mezzo 6 alla fine perché l'errore è sempre un errore è in gol subito soprattutto solo 1 a 1 e niente c'è parecchio da migliorare ancora però appresso di quando giocavamo con ventura c'è ampi ma ampi margini di miglioramento sono stati ma c'è ancora molto 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 da migliorare a mio avviso però sono contento così finalmente se vince quasi sempre anche contro squadre che rognose come la fillagna perché anche se non hanno fatto chissà quanti ti importa però ogni volta che ci provavano soprattutto c'è un pucchi che è davvero in calore come diceva piedi notori e segna sempre ormai ottimo giocatore lo seguo da lontanissimo 2010 2011 se non mi ricordo bene ma comunque davvero bell'attaccante tra l'altro c'è la grecia che mamma mia che finaccia che ha fatto è passata dal vince a euro 2004 a fa una fine una dopo l'altra una bruttissima fine ormai 1 a 1 con l'ixen sono pronunciato bene ma l'armenia che oggi ha vinto 4 a 2 con la bosnia quindi ottimi risultati ormai la qualificazione e diciamo quasi perché sono su queste cose abbastanza scaramantico finché vedo la firma sulla cosa fatta non dico mai che è fatta quindi diciamo che quasi fatta intanto arriva al voto di emerson palmieri polaccio che ha giocato solo 8 minuti che è stato sostituito per infortuni anche sti infortuni onestamente hanno rotto altamente le scatole tra roma tra il gubbio oggi tra l'italia tutti quanti ma sono rotto già il cazzo e ancora anni niente e niente sto contento così però ottima vittoria e per quelli che dicono nazionali sono inutili che palle ci sarà una settimana di pausa e beh se ti fate solo la serie a per voi altri non c'è nient'altro noi che tifiamo anche squadre di categorie inferiori invece ci sono e invece bisogna tifare anche la nazionale a mio avviso perché dopo non ci lamentiamo se ai mondiali non sappiamo che fa o agli europei però dopo salimmo tutti sul carretto e forza italia e qua e là però intanto le qualificazioni non se le pippa nessuno onestamente tutti che se lamentano invece a me piace sempre tifare italia sempre e comunque e niente contento così ottima ottima insomma diciamo da 6 via 6 e mezzo massimo ottima vittoria e vediamo un po' adesso le prossime ottobre se non sbaglio ormai quasi fatto ormai diciamo che è fatta ormai e bene così loro ovviamente migliori in campo pucchi che ha fatto anche colore sul rigore che c'era c'era il nostro non c'era però e non ce n'è andato non è che se oggi in campo è di oh vaffanculo mi da da sto rigore onestamente e niente bene così e appuntamento alle prossime che saranno i video sulla classifica eventuali la design una delle rose sia del gubbio che della roma vediamo in settimana cosa fare anche perché adesso fino a sabato che giocherà il gubbio non c'è nulla quindi vediamo come invento appuntamento alla prossima e sempre 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 forza italia